Ciao amici, sono Jill Cooper, sono tornata con Foodspring, adoro Foodspring e abbiamo visto i nostri pancakes al caramello questo mese grazie al gusto caramello edizione limitato, gusto caffè edizione limitato e poi le nuove back protein, loro chiamano back protein, però secondo me vogliono dire bake protein, che vuol dire che potete utilizzare quel polvere a posto della farina, così andiamo a risparmiare troppo carboidrati, riempiendo i nostri dolci con le proteine, dando al nostro corpo il giusto porto di proteine al momento giusto della giornata aiutiamo i nostri muscoli a rimanere forti, a rimanere tonificati, ci aiuta anche la qualità della pelle, insomma sono i mattoncini che costruiscono tutto quello che ci interessa nel corpo. Ma oggi qual è la mia ricetta di oggi con la mia proteina al caffè? Beh, volevo fare un grandissimo, un gostissimo frappè al caffè, ok? Però proteico, ok? Anziché fare il tuo caffè e latte della mattina, perché non fare un caffè e latte intelligente, ricco di proteine? Così ci diamo già una bella sferzata anche nella prima mattina, prima di uscire di casa, con il nostro caffè e latte proteico. Andiamo a parlo insieme. Passo numero uno, facciamo il nostro caffè. Allora potete usare la moca, usate il caffè che preferite, ok? Perché secondo me il caffè di base ci deve essere in un caffè e latte, proprio per aiutarci a avere quel gusto classico italiano, quello che ci piace. E poi io userò una latte vegetale, perché a me piace il latte di cocco, potete usare il latte di mandorla, preferisco più il latte di cocco di mandorla o di nocciola, piuttosto del latte di soia, perché il latte di soia purtroppo potrebbe essere un fitoestrogeno. Vi consiglio il latte di cocco perché ha anche poco calorie, ha soltanto 20 calorie per 100 ml. Allora, che cosa metteremo? Noi metteremo il nostro caffè, proprio il caffè classico. Aggiungeremo il liquido lattosio, cioè il liquido lattante, non c'è un liquido che sembra il latte. E poi il nostro proteine al caffè, ok? Ricche. Mettiamo una bella scorpecciata di proteine al caffè, che hanno già il gusto di caffè di per sé, ricco di proteine. E andremo a frullarlo, ok? Allora, andiamo a frullare il nostro frappè al caffè. Così il frappè diventa veramente tanto tanto schiumoso, ok? Eccolo là. Non so se riuscite a vederlo, ma guardate qua. Guardate quanto è gustoso questo frappè. Ovviamente potete gestire voi la quantità di caffè e del latte, ma lasciate che le proteine al caffè di Foodspring possono essere quelle che ti dà quella cremosità, quelle che ti danno le proteine, quelle che vanno ad arricchire la vostra prima colazione. E non sola, potrebbe essere anche un, diciamo, un spuntino di mezzo pomeriggio post allenamento, perché il momento migliore di integrare le vostre proteine è nel 90 minuti alla fine del vostro allenamento. Non so se la sapevate, ma è così così. Questa è la mia frappè al caffè con la nostra whey protein al caffè di Foodspring. Ricordate, dovete subito andare online, perché è un'edizione limitata sia per caramello che caffè. Anche la shape shake sia in caramello che caffè, così andate a prendere gli ultimi scorti di questi due meravigliosi gusti proprio di Foodspring per andare ad arricchire la vostra giornata, perché io dico, la nostra benessere parte della mattina, no? Pianificate quello che farete ogni giorno per il vostro benessere. L'allenamento, un tessuto intelligente, portate con voi la scelta intelligente in ufficio con voi, in viaggio con voi, così siete sempre, diciamo, in controllo di quello che mangi, quello che fai, come tratti il tuo corpo. Grazie per tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento insieme con la Gile e con Foodspring. E mi raccomando, il 29 settembre c'è Free Your Hero a Roma, grandissimo raduno, sponsored by, powered by Foodspring. Venite a allenare con me e per avere informazione scrivete a formazionechiocciolacoltsport.com e non dimenticate il mio sconto di Foodspring, GileYT, così quando andate al checkout basta mettere quel codice e avrete un ulteriore sconto per questi prodotti meravigliosi, gustosi e fantastici per il vostro benessere. Baccia alla Gile! Uh, quale bevo, quale bevo, bevo questo. Ciao! Ciao!